cazzo hai fatto vedi? male? impressionabile io lo so eh ma lì da quello sciacquino c'è il cazzo ascolta fai la cosa fai questa cosa posso lì? se non lo mettiamo nel video allora vi racconto allora è più o meno mezzogiorno forse anche qualcosa in più praticamente sto qua sto qua ha voluto ordinare una bistecca al sangue è arrivata gli hanno consegnato sulla apocalips now ma quello è un crucco del cazzo non è un cricco del cazzo Cattaroia 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 Cattaroia